Mentre Cardi continua a schiantarsi Vanda, con tanto di book fotografico sul web da schiantare in faccia a Maxi Lopez, a Milanello succede il degenero. Non si capisce più nulla, non si sa chi è il presidente, chi è l'amministratore, non si capisce più nulla. Ora più che una sede di una squadra alcistica e pare diventata, non so, la sede di gossip mondiale, e va via e resta e si rimette, non si rimette, non si capisce se lo zio Fester vuole rimanere o no, cioè dal canto suo è ovvio sarebbe rimasto, però arriva Barbarina, la figlia prediletta, che si mette a far critere, un po' di no lo zio Fester, alla fine non è che aveva fatto un brutto lavoro. E quindi ha deciso, io me ne vo, perché esser preso per il culo dalla Barbara, sinceramente, non sarei contento neanche io, pensa lui che ha 90 anni. E come nelle più belle favole, chi arriva a salvare Adrianuncio Caro? Il Cavaliere. Arriva Silvio e decide che non si deve rimettere Adriano Galliani, ma che deve continuare con lui questo cammino, no? Ma perché gliel'ha detto? Ha scoperto e ha 50 milioni di buona uscita, gli avrei detto anche io rimani, tu verrai. Ora, va bene che i 50 milioni per lui sono spiccioli, con quelli lì ci paga, con metà ci paga tutte le lampade di Max S e con le altre metà ci paga anche il festino, non so, roba del genere. E comunque qui si è perso il capo, da una parte la Barbara, perché non si può permettere di arriticare uno che vorrebbe essere suo nonno, e dall'altra parte o zio Fester. Cioè, e lei è una ragazzina, cuorina, lasciala parlare, lasciala ciarlare, beh. E se proprio questi 50 milioni non li vuoi, visto che hai detto che me ne vuoi anche senza sordi, a questo punto dalle a flip, cuorino, così anzi che fassi le lampade, si fa una vacanzina, va in mare, piglia il sole e rimane intero. Eh? Là.